ciao a tutti e benvenuti in questo video dove vi mostro le operazioni da fare dopo aver finito di asciugare in maniera tale che la prossima volta abbiamo già l'asciugatrice pronta ad entrare in funzione allora la prima cosa da fare è pulire il filtro indipendentemente dal modello di lavatrice che avete tutte le lavatrici hanno almeno un filtro a livello di porta quindi a questo livello che va pulito ad ogni ciclo d'asciugatura questo perché perché come potete vedere si forma tutta una serie di lanugine dovuto al fatto che i panni vengono asciugati quindi questa va assolutamente tolta prima di ogni lavaggio cioè di ogni ciclo di asciugatura una volta pulito il filtro lo rimettiamo al suo posto in maniera tale che la prossima volta è già lì la seconda cosa da fare è svuotare la vaschetta la vaschetta va svuotata così la prossima volta ce l'abbiamo già pronta per essere utilizzata una volta svuotata la vaschetta la rimettiamo a proprio posto chiudiamo l'asciugatrice la spegniamo e così è già pronta per la prossima volta iscriviti al canale